Ma che sono? Devo fare uno supercatto? Ma che è accionato? No! Ok, c'è un cane? No, è un cane. Ah, il quinto piazza! Ok. Ok. Mi vuoi vedere se c'è qualcuno? Eh, mi scusi, Antoni, come se fosse da rifiuta più acqua a destra? Eh? No, l'ho provato con uno schiappellamento a una fessica a sinistra, ma non funzionava. Ah, non funziona! Lui mi può dare il tiro, se non le dispiace come sono centenari la parella? Grazie! Che parezza, che parezza! Che parezza! Che parezza! Oddio!